Il peggior massacro nella storia dell'Egito moderno in agosto scorso è imputabile alla folla di dimostranti e sostenitori dei fratelli musulmani che ha provocato l'intervento delle forze dell'ordine, le quali tuttavia non hanno saputo controllare la situazione. La conclusione della commissione governativa è chiamata a valutare gli scontri in cui sono morte 632 persone.